Sono figli di emigrati agrigentini in Belgio e due responsabili della strage di carnevale, esclusa l'ipotesi dell'attentato terroristico. Sono due cugini nati in Belgio da genitori originari di Comitini, in provincia di Agrigento, Paolo e Nino Falzone, di 34 e 32 anni, irresponsabili della strage del carnevale di Stripi-Brakenis, un paesino della provincia di La Louvier in Belgio. Un'automobile BMW Serie 5 con a bordo i due è piombata sulla folla provocando sei morti e 37 feriti, dieci dei quali in gravi condizioni. L'automobile si è allontanata, poi è stata intercettata e bloccata dalle forze dell'ordine. Le vittime, tutte di nazionalità belga, hanno cognomi di origini italiane e non è dunque escluso che alcuni avessero la doppia cittadinanza. Mario Cascarano, sua moglie Micaela e suo cognato Salvatore Imperiale, che si sono trasferiti alla Louvier da Volturrara e Irpina, in provincia di Avellino, in Campania, poi Frederick Fred Cicero, Frederick D'Andrea e Laure Gara. Anche i genitori dei due Falzone sono emigrati verso la Louvier, come in tanti dalla provincia di Agrigento. Alla guida della BMW è stato Paolo Falzone, è seduto accanto suo cugino Nino. Paolo, appassionato di corse sui social, sfoggia la sua BMW nera, sfreccia ad elevata velocità mostrando il tachimetro e si vanta delle imprese spericolate. Poche ore prima della strage, di schiantarsi contro una folla di almeno 150 persone, sono stati in discoteca. È stato disposto l'esame tossicologico e alcolemico. Il primo dubbio da risolvere è legato alla volontarietà o meno delle gesto. Inizialmente è stata abbattuta la pista terroristica, ma secondo quanto emerso nella conferenza di magistrati e investigatori, tale ipotesi è da escludere.